Vincenzo Bocciarelli, grande interprete questa sera di brani, di alcune lettere, testimonianze dal fronte. Allora Vincenzo, come ti sei preparato? Mi sono preparato pensando e motivandomi ad un pensiero, un concetto importante come protagonista insieme a tutti, in questo momento così particolare di inizio secolo, pensando al ventesimo secolo che è stato un periodo, una parte della storia basata molto sull'individualismo e sull'egoismo e quindi cercando di dare un messaggio di pace, di solidarietà, di fratellanza che è possibile iniziando anche nei nostri piccoli micromondi, nei nostri rapporti interpersonali perché se iniziamo anche tra di noi a creare amore, forse chi governa prima o poi capirà che dalle competizioni e le azioni efferate si ottengono solo cose orrende, uno scempio dell'anima. Grazie Vincenzo Bocciarelli, adesso qualche momento dal vivo della dottoressa Sara Iannone che introduce il premio Le ragioni della nuova politica.